Olbia città sempre più multietnica, una qualifica che la città gallurese si è guadagnata sul campo e che viene confermata dalla pubblicazione del DUP, il documento unico di programmazione che serve a pianificare le politiche locali da qui al 2026. Secondo i dati dell'anagrafe comunale al 31 dicembre scorso i residenti sono 62.585 contro i 62.262 del 2021, di cui 30.916 uomini e 31.669 donne. Un trend di crescita che, stando all'ultimo censimento Istat, caratterizza la città dal 2001, registrando un aumento medioannuo dell'1,5%. Unico caso nell'isola, poi, a Olbia aumentano proprio i residenti stranieri. I dati Istat riferiti al 2021 indicano una crescita del 2% rispetto al 2020. Secondo la stessa anagrafe, al 31 dicembre 2021, la maggioranza sono cittadini rumeni, la comunità maggioritaria, con quasi 3.000 residenti. Seguono Senegal, 511, e Marocco, 407. Tra le nazionalità rappresentate c'è anche il Pakistan, Polonia, Cina, Albania, Ucraina, Bosnia, Tunisia, Bangladesh ed Egitto, più circa 1.200 residenti appartenenti ad altre nazionalità. Non solo, a Olbia la percentuale di cittadini stranieri sul totale della popolazione è la più alta di tutta la Sardegna, oltre il 9% sul totale della popolazione residente nel 2021 e più elevata della media nazionale.